Ecco qua, è uscito questo bellissimo copanetto, è un box, vive proprio, con tante cose dentro, fotografie, dettagli particolari, ci sono persino due film. Il film più importante ovviamente è Le Cinque Giornate, diretto da Dario Argento, che io ho scritto insieme a lui, e questo film è l'unico film non thrilling di Dario Argento, ma è un film bellissimo, una commedia drammatica di argomento storico-politico interpretata da Adriano Celentano e da un cast di bravissimi attori. Quest'edizione speciale in box, oltre ad essere stata restaurata e quindi è bellissima come qualità, presenta anche un extra molto particolare, che è il mio lungometraggio di docu-fiction La Battaglia di Roma 1849, perché è legata all'argomento del film di Dario. Quindi questo è un doppio box con due film che non dovete perdere, Le Cinque Giornate di Dario Argento.